Il Centro per la Formazione e la Sicurezza, con il patrocinio del Comune di Sedico, organizza per venerdì 21 ottobre, presso l'Aulamania dell'Istituto, un incontro gratuito di informazione e supporto tecnico sugli impianti fotovoltaici. Ne parliamo con il direttore Igor Tricchess. Il Centro per la Formazione e la Sicurezza della provincia di Belluno, in questa fase in cui le dinamiche economiche impongono scelte importanti a livello energetico, organizza per venerdì 21 alle ore 8 e mezza qui nell'Aulamania del Centro in via Stadio a Sedico un incontro sul fotovoltaico per incuriosire la cittadinanza su quali sono le caratteristiche e le grandezze a cui fare attenzione nel momento in cui si dovesse installare un nuovo impianto fotovoltaico o magari quali sono le grandezze che bisogna conoscere qualora l'impianto fotovoltaico già ce lo dovessimo avere. È un'iniziativa organizzata dal Centro per la Formazione e la Sicurezza al fine di mostrare qual è l'eccellenza del proprio corpo docente. È un corpo docente che riesce a sviluppare un programma formativo che va dall'edilizia tradizionale ma che tocca in maniera importante termoidraulica e elettrico. Da questo punto di vista è proprio un docente che terrà le serate. Dico le serate perché quella del 21 è soltanto la prima di una serie di serate che intendiamo svolgere in diversi comuni della provincia e che stiamo organizzando appunto con i diversi referenti.